E quindi io sarò in Friuli, Venezia Giulia domani sera, sarò a Porcia in provincia di Pordenone a incontrare tanti di voi, però mi fermerò lì a dormire e lunedì mattina sarò a Trieste, sarò in Questura a rendere onore per quel che può valere al sacrificio di Matteo e di Pierluigi, a incontrare i loro colleghi, a incontrare il questore, a incontrare una città sconvolta, se uno viene arrestato perché ha rubato, in questo caso era accusato di aver rubato un motorino malmenando una signora, ragazzi lo si può e lo si deve trattenere, mettere in condizioni di non andare a spasso, se serve con le manette sì e perché no? Grazie